Buonsoir, buonjur a tutti, bentornati in questo nuovo video, bienvenuti, oggi ragazzi, mademoiselle e madmozin, andiamo a vedere i Toz della Ligane che sono usciti stasera da poco, ho appena staccato la streaming, li abbiamo già visti, ci sono delle carte molto molto interessanti, prima una piccola premessa che non è una premessa, è una roba che volevo dirvi, raga non ho testato tanta roba di Serie A perché sono con i crediti un po' con le pezze al culo, la voglia di giocare ovviamente è praticamente sotto i piedi, ormai tolto un po' in Weekend League tranne quando ho problemi di connessione e quindi non ho avuto modo di testarvi tanto, avevo 200.000 crediti, ho sbloccato Walker che purtroppo mi pare sia scaduto all'SBC quindi non sto neanche a parlare più di tanto, sappiate che a me Walker non piace, purtroppo raga non mi piace, non è il mio DC come sempre, molti si trovano bene, per me Van Bissaga, Tapsoba, ma anche un James tuttora, un Carlos Alberto, uno Zambrotto sono superiori anche con Lacroix, però per chi si trova lo sapete che è il mostro finale. Della Liga magari cercherò magari di provare qualcosa in più quando tornerò perché mercoledì partiamo per Milano per le finali della Serie A, domenica avrò poi quando tornerò il sabato sera, domenica ho la Cresim di mio fratello quindi la vuole tipo di Toz Ultimate, non so se riuscirò a farla, comunque appena torno si sistema un po' la cosa, cercherò di testarvi qualcuno. Spostiamoci però su FIFA perché andiamo a vedere questi Toz, partiamo da beh i soliti un po' come per Ronaldo, non è che mi dilungo, Mbappé raga gli hanno dato meno 2 di tiro, più 3 di passaggio, un po' meno dribbling e più 5 di forza di fisico, tradotto anche in più 5 di forza, sono uguali per me ragazzi, ovviamente che avrà la fortuna di trovarlo, lo sapete. E' uscito poi il mio amico che mi fa l'occhiolino, il buon Neymar raga che ovviamente cercherò di comprare, sacrificherò forse Ronaldo Toti perché Zidane non voglio vendolo, mi trovo veramente troppo bene, è un giocatore pazzesco, mi diverte, è uno dei pochi motivi per cui sto continuando a giocare, carta esagerata questa. Io credo, credo di poter dire che Ronaldo ci vorrebbe sempre, Cristiano, però potrebbe essere la punta più forte del gioco perché quest'anno già il base era rotto, non si buttava giù con poco equilibrio, gli hanno dato più 6 o più 8 di equilibrio, più 6 di potenza tiro, più 10 o 12 di finalizzazione, 9, quant'è lì è andato, gli hanno dato poca forza in più, solo un più 9, da 51 a 60 ci passa poco ovviamente, però è sempre stato rotto, passaggi tantissimi più, guardate che carta. Totale, spero per chi vuoi, chi può, io credo che andrà sui 7, spero, però potrebbe stare anche sui 7 e mezzo, se poi va 6 un sogno, chi può ovviamente lo compri, ragazzina intesa per me Falco, chi può lo compri perché Neymar per me è un giocatore anche quest'anno, il più forte di tutti, l'attacco definitivo è Neymar Cristiano Toti, però è anche vero che secondo me potrebbe anche essere più forte di Neymar, soprattutto per chi come me ha problemi di connessione, questo nello stretto, sapete, pesa di meno, perde di meno. Il bambiere, il ritorno del bambiere, stavolta gli hanno dato 5 stelle skill, vi ricorderete che con Bamba Pot non era finito benissimo, però la carta stavolta a vedere così nulla da dire, cercherò di testarvelo se riesco questo perché le 5 stelle skill mi ispirano molto. Può giocare anche punta, io lo proverò esterno, probabilmente nel 4-4-2 e nel 4-1-2 magari lo provo anche il C.O.C., perché no, può fare anche il C.O.C., bella carta, raga, non gli si può dire niente, stile intesa nel caso lo andiate ad acquistare, per me finalizzatore classico. La carta è molto interessante, poi con l'aggiunta delle 5 skill ancora di più, può giocare in ogni ruolo davanti, ovviamente i soliti magari rimangono superiore, però io mi sento di dire che al posto del solito Mbappé Breaker, al posto del solito Neymar base, ma perché no anche di Neymar, sicuro da esterno, meglio di Neymar, Mbappé da esterno più forte, al centro proverai a dare una chance a questo Bamba, al posto dei soliti Mbappé e Neymar. Poi anche lì, come dicevo in live, lo sapete, adesso è arrivato a questo punto, ve l'abbiamo spiegato un po' tutti, raga, tutte queste carte sono talmente bustate che tolte i rari casi sono tutte valide, quindi si vanno a scegliere anche queste carte se si vuole cambiare un po' dal solito. Ad esempio, adesso poi andremo a vedere Awar, che dovrebbe uscire a SBC perché al momento non si trova in sto gioco, così come magari Pacchettà, ovvio che Bruno, comunque sempre Bruno per i link eccetera, però se uno vuole cambiare un po', adesso hai tante alternative. Stile intesa, punto finalizzatore. Il pesce, raga, purtroppo sempre 5-3, questa è una carta un po' ambigua, un po' sempre uguale in tutti i FIFA, a me non ispira tanto perché un po' di type veramente particolare, pesantuccio, se non sulla fascia, al centro non mi ispira tanto, però potrebbe fare dei bei tunnel, non ha una freddezza esagerata quindi qualche gol se lo cagherà, però anche qua per i fan o altro sicuramente una bella carta, tira delle seggiate disumane, io se lo provo mi interessa sulla fascia, raga, più che al centro, però ovviamente dovrebbe fare la punta. Anche qua è ovviamente normale che Mbappe Breaker sia più in meta, però se mi piace di più Depay, aspettate che si stabilizzi il prezzo e andate magari a prendere Depay. Io su di lui userei, mi piace di 91 di forza, questo sui tunnel vola, Falco probabilmente, raga, andrei di Falco credo, anche su di lui, poi se volete bustare il dribbling che ci tenete, il classico motorino, tanto la velocità è già ottima. Paketà è un chip AWAR, una sorta di Bruno, come potete vedere, da giocare CC in 4-3-1-2, giocare CDC, come abbiamo visto anche degli altri campionati, raga, Depol, anche se Depol era un po' con alto-basso, un po' caso particolare, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi un centrocampista da adattare in mediana vicino a uno difensivo, che può essere come ad esempio questo André, che poi andremo a vedere, o il solito, Viera, i soliti insomma che sono usciti durante l'anno, ma anche un Angolan, visto che è molto difensivo, un Renato, perché no Renato e Paketà. Quindi, bella carta, volendo potrebbe anche fare, mi sento di dire, se avete un po' meno crediti, il COC. Non credo costi tantissimo, se lo usate davanti alla difesa o la CC, ovviamente, ombra, se lo utilizzate invece da COC, metterai un bel cacciatore. Prezzo, vedete già, che si sta un po' abbassando. Carta interessante, ripeto, non è agilissimo, però comunque controllo palla dribbling, ci può stare per chi ha un po' meno di crediti. Di Maria, altra carta, che avendo gli messo tre piedi le debole, secondo me, è stravalida, raga. Ovviamente, il piedi le debole non è il massimo, ma questo palla al piede è un funambolo, cioè difficilissimo da prendere, si sposta la palla stile Neymar. Stile intesa per lui, anche qua, Andrei di Falchetto, da utilizzare, COC, anche se ha tre piedi le debole, sti cazzi, oppure puntagli un attacco a due. Da esterno, raga, ok, che ha 71 di forza, però un po' gracilino, secondo me non worka più di tanto, il buon Di Maria. Caio Enrique, dicino per me, perché quel 70 di forza lo rovina. Poi bisogna vedere come è in game, però anche ho tante di reattività, vabbè, queste sono carte, raga, che buone per chi ha veramente pochi crediti, normale, normale, 3-3. Insomma, se volete la terzino, magari ci può stare, non è neanche velocissimo, nel caso ombra, però, anche se ha 97 accelerazione ombra, per questo, raga. Insomma, carte, poco conto. Giusefonte, SBC player, purtroppo quest'anno causa gioco, lo sapete, non mi dilungo. Marchinho, se è una carta stra-interessante. Vi ricorderete, il frizz ha anche magari spostato mediano, ma io lo utilizzerei di C. Lo inquadro come una sorta di alaba, ragazzi. Adesso andremo a vedere anche Kimbembe regalato, perché c'è pure Kimbembe regalato, che è una gran bella carta, però guardate questo che stats. 98 reattività, 98 freddezza, poi il classico delle super carte in difesa. Il prezzo umano, io anche qua, adesso non mi so fare un confronto con tutti i difensori che ci sono in sto gioco, ragazzi. Costa, si assisterà sui 3,50, secondo me, grosso modo. Provatelo, se volete, se vi serve per i link, perché per me potrebbe essere una sorta di alaba, appunto. Poi è un po' più grosso di alaba, secondo me è un po' più con le gambe lunghe. La carta è veramente stra-pulita, la userei comunque in difesa, non mediano. Ottimo, ottimo, ovviamente, anche, appunto, per i link. Stile intesa, ombra, anche per lui. Marchinhos è un altro che vi vorrei testare, perché mi ispira, appunto, parecchio. Ma adesso andiamo a vedere poi Kimbembe, perché Kimbembe è interessante lì sotto. Begheader è uscito anche qua, raga, il solito. Lo sapete ormai com'è Begheader, sapete com'è va usato. Se ovviamente cercate una carta su questo stile, quest'anno non è sicuramente in meta. Non è sicuramente un giocatore che a me interessa. Però, se vi piacciono i giocatori su questo stile, che sono Dalglish, Butraghegno, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi 4-5, barra 4-4, piccolini che si girano. Vi ricordate il gioco dell'anno scorso? Così, questo è il più forte. Guardate che stazzo. 99 agilità, 99 equilibrio, 96 attività, 97 contro palla, 97 dribbling, 93 potenza tiro, 99 finalizzazione, 94 freddezza. Pecca un po' nella stamina, Daciocino lo vedo benissimo, tra l'altro lui tira anche bene a giro, non ce l'ha il tiro a giro forse, ma tira molto bene. Ovviamente da usare punto e basta. Per me, raga, Mbappé, lo sapete, tutti gli altri quest'anno, Cristiano, ma anche stupidamente forse, ma è Kaka Moments, forse, ma anche Kaka Moments. Tutti i giocatori con 5 stelle skill per me sono più forti, che hanno ovviamente stazzo alte, perché sono più enjoyable da usare, per come vedo FIFA io. Se devo usare un 4 skill, quest'anno uso Messi, che mi sta piacendo alla follia da C.O.C., ma non da punta. Da punta ci vuole un 5 per me. Se vi piacciono questi giocatori, come vi ho detto, raga, andate sul sicuro, questa è la miglior carta che potete prendere. Se non skillate, mi troverete meglio con questo che con Mbappé, ve lo dico, sono sicuro di questa cosa. Stile intesa per lui? Sapete che forse è base? 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 Niente, perché busta un po' tutto, tanto finalizzazione, o Falco base, vedete voi, o Falco base, la maggior parte andrà per Falco, credo, o Falco base comunque. André, ne parlavamo in live, alto-alto 3-3, peccato il 3-3, però la carta è stra-pulita, perché è agile, difesa, guarda che stats. Questo lo vedo un po' come un Kanté, anche se è alto-alto, è ovviamente un po' tecnico, perché è un toz, però credo che poi in game ovviamente renda così-così, così almeno mi dicevano per le altre versioni, versioni, però guardate qua anche, siamo già sui 200, questo con 100k l'ho portato a casa probabilmente fra qualche giorno, se vi serve, se avete pochi crediti come soluzione low cost, dategli una chance perché ne vale la pena, secondo me, comunque le stats sono veramente buone. Stile intesa, ombra per lui. Burac il mazzo, stagione di Cristo, lui non muore mai, ma è un 3-3, quindi niente da dire, ragazzi, mi dispiace. La borde, idem, 3-3, esterno-destro. Buono per il brodo. Klaus, qualcuno suggeriva da DC, io non so che Boritai Pabbi al momento. 1,85 m, l'altezza per me c'è, lo sapete che io l'altezza ci tengo, perché le gambe devono essere lunghe per DC, per dare i margini di errore, però ragazzi, con tutti i terzini e i difensori che sono usciti, fra Tapso Bala, Croateo, Vambisaga, James, Walker, Carlos Alberto, Zambrotta, lo stesso Kleiber tuttora, Virgil, Varane, un man di andare a metterti C1 con 81 di intercettazione, 83 lettura difensiva, 77 forze, 81 aggressività, te dico, fermate, cioè non ne vedo proprio il bisogno. Piuttosto, a me, pare una gran bella carta utilizzato terzino, perché va bene 3-3, ma tolto il normale normale che non è il massimo, la difesa è accettabile, si rintesa sentinella, molto agile, dribbling alto, passaggi alti, quindi al massimo da terzino. Ripeto, anche qua, chip carta magari da provare. Navas, portiere, non lo so se parerà, lo scopriremo vivendo. Awar, che al momento non c'è, ragazzi, non cercate sul mercato perché non c'è, dovrebbe essere SBC, così ci dice, ma se la sono dimenticati. Questa è una carta, 4-4, l'altro normale, io l'altro Awar non l'ho provato, ma che sia può fare il C-O-C, sia può fare la punta, ma soprattutto lo vedo bene da C-C, ragazzi. Guardate che stats è anche da C-C di C, barra C-C in un centrocampo a 2. Io credo di sì, qualcuno mi chiedeva è superiore a Bruno, credo di sì, del POTM. Qualcuno mi chiedeva è superiore a Renato, Renato è diverso, Renato è più un André, va andrebbe paragonato, questo è più un centrocampista offensivo adattato, quindi da paragonare a Bruno, Zidane Baby, insomma, questi giocatori qua. E credo che potrebbe essere una delle migliori scelte al momento sul mercato. Va sicuramente testato, perché non ha alto, alto innanzitutto come Bruno e come altri, ma alto normale, quindi un po' più offensivo. Però anche la C-C, soprattutto, secondo me, la C-C è meglio di Bruno. Potrebbe essere meglio di Bruno, la C-C in un 4-3-1-2, ad esempio. Questo anche, guardate che passaggi che c'è, cioè, carta veramente interessante. Gli altri, l'altro Raw War, me ne hanno parlato abbastanza bene in chat. Se riesco ve lo testerò, se riesco a sbloccarlo, ma credo proprio di sì, perché le carte le ho. Quando lo metteranno, quando tornerò da Milano, ovviamente ci sarà un po' di tempo, sono magari lunedì o martedì prima che parto, ci faccio qualche partita giusto per testarlo. Però questo è interessante, ovviamente da usare con uno stile intesa difensivo, se usato davanti alla difesa, quindi ombra, se volete un boost importante anche alla velocità, sono sentinella anche qua, perché la velocità già c'è. Se no, andate, se lo volete usare magari proprio offensivo, quindi C-C, barra punta, perché no, cacciatore. Ovviamente un 4-4, quindi, Bappé rimane superiore, come già valeva per Ben Yeter. Ben Yeter rimane superiore, ma questa SBC costa meno di Ben Yeter, tra l'altro quanto costa Ben Yeter. Però sto Rawar potrebbe essere una carta polivalente, un po' come uso io Zidane, che uso un po' dappertutto... Madonna, se costa. Come uso un po' Zidane io, che uso un po' dappertutto. Kim Ben B, ultima carta che vediamo oggi. 2-3, vabbè, ma un DC alto-alto. Io avevo provato l'ultima versione, mi era piaciuto molto, avevo detto alla chat, ragazzi, esce Kim Ben B, occhio, perché potrebbe essere un Baran 2.0. Non gli hanno bussato tanto la reattività, non tanto la freddezza, non tanto la difesa. La velocità è peso un più 5, è gratis, quindi per me va sbloccato, perché potrebbe essere un difensore che potrebbe essere una sorpresa da usare con ombra. Occhio, perché, ripeto, in game difensivamente era un mostro, quindi se non è lento che la velocità un po' l'hanno risolta, per me potrebbe togliervi delle soddisfazioni e magari evitate di comprare Marquinhos, questo è ottimo per il link. Quindi, se avete voglia, sbloccatevelo. Detto questo, ragazzi, ci vediamo al prossimo video quando usciranno i test. Ormai su FIFA, raga, poi non so se faranno qualcosa per gli europei, purtroppo è esclusiva PES, quindi non so quanta roba potrà uscire, però qualcosa uscirà sicuramente, i video un po' continueranno, però ovviamente si va un po' a calare adesso per tanti motivi, raga, e poi ripartiremo poi a ottobre, come sempre, a stecca. Quest'estate porterò anche video un po' diversi, quindi magari qualche altra top 10 esotica su film, piatti, altro, insomma, su un po' le mie passioni oltre a FIFA, per cambiare un po'. Tanto noi delle views, raga, non ce ne fotte, nu cazza. Vi ringrazio, vi auguro un buon weekend, una buona serata, ci vediamo in live presto e sui canali della Serie A Team, per le finali, dove cocerò Bruno e speriamo di portarla a casa, mi tocco, see you later guys, see you soon, ci vediamo presto.